6 agosto buongiorno buona domenica a tutti voi e bentrovati con la nostra rassegna stampa a Pescara più ascolto e sostegno al cittadino grazie all'iniziativa con cui il comune supportato anche da fondi statali assumerà 10 assistenti sociali a tempo indeterminato. Valentina Ciarlante Lo stop al reddito di cittadinanza ha indotto il comune di Pescara ad aumentare di 190 mila euro la dotazione economica del PIS e il pronto intervento sociale che si rivolge alle fasce deboli e che ora sarà un sostegno anche per quelle persone che si sono ritrovate senza il sussidio pubblico nato per sconfiggere il disagio economico in Italia. Tale strumento va ad accostarsi a un altro provvedimento adottato dall'ente messo in atto dal settore politica al cittadino che gestisce peraltro anche il piano sociale del comune documento da 18 milioni di euro. A breve saranno assunti con contratti a tempo indeterminato 10 assistenti sociali di cui 4 grazie a un finanziamento dello Stato che proviene dal cosiddetto fondo povertà. Figure che andranno ad aggiungersi alle 20 già in servizio nel segretariato sociale ovvero l'ufficio del comune che punta a garantire unitarietà di accesso e di ascolto a tutti i cittadini. Il dirigente Marco Molisani insieme alla responsabile del servizio politiche sociali Roberta Pellegrino ha spiegato i dettagli di questo progetto. La normativa nazionale prevede come obiettivo da raggiungere quello di un assistente sociale per 5 mila abitanti e noi con l'assunzione di questi 10 assistenti sociali nuovi riusciremo a raggiungere proprio quel livello stabilito dallo Stato che ci consentirà nel futuro se supereremo anche questo limite quindi se il numero di assistenti sociali riuscirà a soddisfare meno di 5 mila persone quindi se arriveremo a 1 a 4 mila ci sarà perfino la possibilità di avere delle premialità. Occorrono 5 milioni di euro per completare la tangenziale nord di Campobasso finanziamenti bloccati a causa della mancata approvazione del bilancio da parte della regione molise intanto per far uscire dall'isolamento i residenti è stato riaperto un tratto di Contrada Macchie. Sentiamo. Dopo mesi di semisolamento e tantissimi disagi per i residenti che dovevano raggiungere Campobasso è stata riaperta la strada comunale che va da Contrada Macchie, Vallone, San Pietro all'imbocco della strada Colle Leone, un tratto della rotatoria della Fondovalle Rivolo della tangenziale nord. I lavori per il completamento della tangenziale nord restano purtroppo ancora da completare. Ha voluto puntualizzare Roberto Gravina, sindaco di Campobasso per qualche altro giorno dopo l'elezione in consiglio regionale. Mancano all'appello 5 milioni di euro per consentire al comune di completare l'importante infrastruttura, una delle incompiute del capoluogo. Ma se la regione molise non approverà il bilancio è impossibile anche per Palazzo San Giorgio andare avanti con i lavori. Infatti è necessario il rinnovo della convenzione stipulata tra il comune di Campobasso e la regione stessa che di fatto regola il finanziamento dell'opera. Se non avessimo prodotto come amministrazione comunale un'ordinanza sindacale urgente emanata per motivi di protezione civile a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana, ha spiegato ancora Gravina, non si sarebbe potuto ancora garantire alla numerosa popolazione residente in Contrada a Colle Leone e in Contrada Macchie il rapido raggiungimento del centro cittadino e con esso tutti i servizi pubblici, quelli sanitari e in modo particolare quelli relativi all'emergenza, urgenza, all'ospedale Cardarelli, nonché quelli territoriali. Un altro esempio della scarsa attenzione del governo regionale di centrodestra nei confronti di Campobasso. Ed ora i titoli dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo da primo piano molise. In apertura si parla di PNRR, infrastrutture, progetti in ritardo. Recupereremo. L'assessore Marone ammette sulle procedure pre-pesa la carenza di personale in regione, ma stiamo accelerando il più possibile per evitare di non poter accedere ai finanziamenti. A Termoli, lo vedete in foto, taglio del nastro per la stazione marittima. La giunta Roberti scommette sulla rotta dei Balcani. E poi Campobasso, tangenziale nord, Gravina, opera al palo. Non per colpa nostra, l'ex sindaco punta il dito contro Palazzo Vitale. Il punto di oggi, affirma Rita Iacobucci, ricerca il molise che si fa onore. Scorriamo, leggiamo insieme le altre notizie. Sorpresi dalla tempesta, Valle Fiorita, 33 scout salvati dai vigili del fuoco tutti i minorenni trasferiti all'abbazia di Castel San Vincenzo dove hanno passato la notte. E poi Termoli, estorsione, 41enne pugliese arrestato dall'arma in flagranza di reato. Macchia di Sernia, alberi abbattuti dal vento e rimossi grazie all'intervento di tre consiglieri. E poi si parla anche di piano oncologico, fondi anche al Molise, programma d'azione entro la fine di ottobre. La nomina, ufficio scolastico regionale, pubblicato l'avviso per il successore di Anna Paola Sabatini. E poi nel taglio basso Termoli, il maltempo spegne i fuochi di San Basso, se ne parla nel 2024, cancellato l'evento estivo più atteso, la delusione di turisti e residenti. Torniamo nel taglio alto dove c'è lo sport con il campo basso, i rosso-blu battono 3 a 2 l'apice in gol, nonni di Nardo e Rasi. Termoli, bel successo degli adriatici di Esposito contro il quotato Nardo e infine. Vasto Girardi, doppio rinforzo per gli altomolisani, ecco Camara e Ferrara. Lasciamo primo piano Molise, dedichiamoci ora ai titoli dell'Abruzzo con il centro, leggiamo nel dettaglio le notizie. Ex Sercom appalto da 10 milioni, l'Aquila, la riqualificazione entro due anni, ospiterà un polo socio-culturale. E poi il lutto, l'ex assessore aveva 64 anni, addio morra, la politica perde un personaggio amato da tutti. Nel taglio alto si parla di caccia, ecco le date, ma il WWF si prepara per ricorrere al TAR, quindi le contestazioni al calendario venatorio. E poi regionali, piano del centro-sinistra, Abruzzo insieme, il nome della coalizione che sfiderà Marsilio. E poi tasse, nuove regole, come cambiano IRPEF e sanzioni, la riforma fiscale appena approvata in Parlamento all'interno la guida. E poi l'intervista a Fabri Fibra Pescara, mi sento, dice, come voi abruzzesi. Ed è scontro politico sulla perdonanza. Il presidente della campagna cita Celestino V e attacca meloni biondi sin furia. Polemiche ad Avezzano, T-Red e ciclabili, De Angelis tuona contro la giunta. Nel taglio basso lo show tricolore nel cielo aquilano, le frecce sorvolano la basilica di San Bernardino, bimbi in festa per i cento anni dell'aeronautica. Balsorano cade dalla bici dopo la gita alla Trinità, grave 58enne. Uccise tre pecore, l'orso assalta un gregge, il nuovo ride a Ovindoli. Dal centro Abruzzo leggiamo ora insieme i titoli del messaggero Abruzzo. Taxi verso lo stop di notte, Pescara, aggressione alla stazione, gli autisti, abbiamo paura, rischiamo la vita. Antonio Abagnale, rappresentante di categoria, dice tra noi anche donne da proteggere. E poi lutto a Teramo, morto Giandonato Morra, toga e politica. Il giallo di Pescara, corvo nella polizia, niente trasferimento. Tatuaggio, incastra il rapinatore con la chiave inglese, alba adriatica, il colpo nella sala scommessa, il bandito riconosciuto anche da una collanina. E poi una notizia che riguarda Francavilla, tocca un cavo folgorato, il capo operaio. La foto notizia, le frecce tricolori, lo spettacolo all'Aquila, migliaia in città per guardare la pattuglia acrobatica. E poi Pescara, lo storico panificio Cipollone, chiude dopo 37 anni. Abruzzesi nel mondo, dia, l'artista italo-canadese che canta in 32 lingue, tornata dopo il Covid, adesso si esibisce nella sua terra. Torniamo nel taglio alto per leggere le ultime notizie del messaggero Abruzzo. Estatica decolla con Mr. Rain, questa sera rap al Marina. E poi l'Aquila, i cugini di campagna a Marcord, anni 70. Infine Serie C, Pescara oggi via la Coppa, le 18 contro la Reggiana. Lasciamo i titoli della stampa locale e concentriamoci invece su quella nazionale, leggendo come sempre i titoli del Corriere della Sera. Questa è la pagina di oggi. Firenze, la scomparsa della piccola cata legata al racket degli affitti, in cella lo zio. Le carte dell'inchiesta, l'accusa del giudice, troppi silenzi dai genitori, lo scontro, amalfi i bambini affidati al nonno. E poi, navi russe sotto attacco, l'Unione Europea intesa al vertice Ghedda sull'integrità territoriale ucraina. Droni ucraini su una petroliera, il Mar Nero, zona di guerra. Mosca dice vi puniremo. E si parla sulla stampa nazionale anche del ponte sullo stretto, lite sugli stipendi oltre i 240 mila euro. Il PD dice è un'indecenza. E poi agente israeliano ucciso a Tel Aviv, si parla di terrorismo palestinese. E infine la fotonotizia di oggi, gli strappi e il buio. Ho pensato di mollare l'intervista a Matteo Berrettini. Volevo fare, dice il giudoca. Dal Corriere della Sera leggiamo adesso insieme i titoli del quotidiano. La Repubblica. La Repubblica parla dell'alluvione. L'alluvione è dimenticata. Questo è il titolo scelto. Per questa domenica, 80 giorni dalle inondazioni, non sono arrivati i fondi promessi all'Emilia Romagna. Cittadini e imprese allo stremo, comuni e regione hanno già anticipato 400 milioni di opere. Bonaccini attenti perché può esplodere. La rabbia sociale. E sul ponte di Messina Blitz di Salvini. Super stipendi ai manager. Nel taglio alto. La bomba alla stazione di Bologna. Nuovo oltraggio di Fratelli d'Italia. Chi dice? Estragenera. Apostolo di menzogna. L'intervista. Pellegrino. Non ho dubbi. Mano fascista armata da Gelli. Dalla Repubblica vediamo adesso insieme i titoli del Tempo. Movimento 5 Stelle fomenta le proteste. Si parla di reddito di cittadinanza. Dopo le parole di Grillo che invocava la rivolta civile, martedì si ritrovano a Napoli. Indetta una conferenza sulle drammatiche conseguenze della cancellazione del reddito di cittadinanza. Nella città, già teatro di sconti, a soffiare sul fuoco. Anche Fico, ex presidente della Camera. E poi scelte di politica estera. Meloni in cerca di soluzioni per lasciare la via della seta. DDL Anziani è una rivoluzione. Monsignor Paglia, finalmente una nuova visione della vecchiaia. Parla il viceministro Sisto di Forza Italia con la riforma della giustizia. Stop ai processi politici. E lasciamo anche questo quotidiano. Concentriamoci ora sui titoli del messaggero. Comuni, più poteri ai sindaci e status speciale per Roma. Approfondiamo questa notizia. In Consiglio dei Ministri, il riordino degli antilocali. Le regioni dovranno devolvere funzioni e risorse. Per la capitale è prevista una forma di autonomia. Il Ministro, impossibile recuperare l'inflazione. Zangrillo, le garanzie del MEF. In manovra i fondi per i rinnovi alla pubblica amministrazione. Poi, notizie dal mondo. Droni in azione. Mosca, ci vendicheremo. Mar Nero, il nuovo fronte di Kiev. Colpita anche una petroliera russa. Si parla anche sul messaggero del rapimento di Ikata. Rapimento per una vendetta. Arrestato lo zio Firenze. L'uomo nel racket delle occupazioni. I PM e i genitori nascondono informazioni. E poi, sottratti. 400 mila euro a mia madre. Truffe agli anziani. Aumentano le pene. Boom di raggiri. In arrivo una legge. Il racconto di Valeria Marini. Nel taglio basso si parla di carovacanze. Il ritorno del last minute voli hotel stabilimenti. Ecco come difendersi dai prezzi folli. Diamo ora uno sguardo ai titoli di questa domenica del Fatto Quotidiano. I italiani sempre più poveri e calano. Le ferie d'agosto meno 800 mila in un anno. Puglia meno 20%. Toscana meno 10. Crisi pure in Liguria, in Friuli e in Sardegna. Le storie dei senza reddito di cittadinanza dal nord al sud ci rendono schiavi a 100 euro al mese. E poi parla Corsaro, primo cittadino a Vercelli, sindaco di Forza Italia. Non c'è il lavoro per tutti così. Sul reddito non si aiutano i fragili. E poi diamo uno sguardo al taglio alto. Parla Fico, ex presidente 5 stelle della Camera. P2, Crosetto spieghi. Bonafede non c'entra. Scoop, spioni e VIP. L'armi, bufala. I giornali vanno in tilt sui dossier. E poi intervista alla Gana, la RAI sbaglia a dare un talk a De Girolamo. Lasciamo anche il fatto quotidiano. Diamo un veloce sguardo ai titoli del manifesto. Onda su onda. Le antenne 5G. Libere di minacciare la salute. Il governo accontenta i gestori e alza i limiti delle emissioni elettromagnetiche nocive. Protestano gli scienziati. Nel Consiglio dei Ministri di domani, previsto anche un regalo a chi lavorerà al Ponte dello Stretto. E poi Lampedusa, ancora morti e dispersi. Naufraga un barchino di migranti. Tre vittime, altri venti bloccati sugli scogli. Open Arms. Prima ci coordinano e poi ci allontanano. Vediamo ora insieme ai titoli di questa mattina del quotidiano. La verità. Il file segreto delle indagini che mette nei guai l'antimafia. Non c'è solo l'informativa sui soci del Ministro Crosetto, il Tenente Striano. Un diario elettronico delle ricerche su centinaia di personaggi che gli sono stati ordinate dai magistrati tra il 2015 e novembre 2022. Che ne è stato di quelle informazioni? Dovete chiederlo a loro. E poi leggiamo quest'ultima notizia. Parla della commissione sul Covid. Bassetti, YouTube oscura. La TV della verità censurata. La puntata di ieri ospite l'endocrinologo fraiese. Ma con quale diritto? Si chiede il quotidiano La Verità. Ed ora vediamo velocemente le notizie economiche del sole. 24 ore. Si parla di tasse ma anche di sanità e statali. Caccio a 25 miliardi per la manovra verso la legge di bilancio. Spese obbligate per oltre 30 miliardi ma per ora ne sono disponibili solo 6. E poi turisti in calo fino al 30% ma per il lusso è tutto esaurito. Il peso dei rincari dei prezzi. Chiudiamo la nostra rassegna stampa come sempre con i titoli di sport. Leggiamo nel dettaglio quelli della gazzetta sportiva. In evidenza l'Inter nel taglio alto e l'Atalanta. 9 boom. Scamacca, Sacchi con lui Gasp da Scudetto e ora De Keterer e poi l'americano che torna nel merino di Marotta pronti 35 milioni. C'è anche il Napoli-Cvara esclusivo. Napoli ce lo teniamo noi. Lo Scudetto è stato incredibile. Ora vediamo chi ci batte. Con Garzia si impara ogni giorno e so sempre dove trovare Osimen. E poi la Juve. Vediamo quest'ultima notizia. I bianconeri e le loro stelle. Chiesa al centro di Allegri ma il rinnovo è bloccato. La leggenda in nazionale Buffon si tuffa per Mancini e dice voglio ancora sognare. Bene con questa notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa. Diamo però prima insieme uno sguardo alla programmazione di questa domenica che vede alle ore 11 viva la musica con Gigione a seguire Punto Verde Termoli. La seconda parte poi Agri Sapori. TG News ore 14 conto alla rovescia. Alle ore 16 alle ore 18 Slow Tour Raiano Maggiolata 2023 19 e 30 seconda edizione del nostro telegiornale poi speciale Napoli a Castella di Sangro alle ore 21 e come sempre ultima edizione del nostro telegiornale alle ore 23. Ed è tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito. Vi lascio in compagnia dei nostri programmi. Buon proseguimento. Grazie a tutti.